Amici notici, il nostro Waha da Mimmo Fornare Caprissa, capadaccia, ma venuti in via Falanto Innanzitutto vi c'è una mannata una segnalazione La signora Rita Ciaccia che dice Possibile che in via Falanto addosso la prima l'alberg Sarra dot, una discarica ce l'ha per Ma ci imbattiamo regolarmente in queste situazioni Ma il vero problema è un'altra Sta porto, che era un tempo da un alberg che stava qua in via Falanto E' completamente aperto E chiaramente, l'Indra si può scappare Qualsiasi tipo di monnezza e qualsiasi tipo di cristiano A come sto che attraschia qua l'Indra a presa a capadaccia Avrà a mente che può attrasse qualcuno Si può fare male Considerando che questa struttura deve essere sicuramente da qualche privata Inviteremo questa privata almeno a provvedere a chiudere Per evitare proprio di conservare innanzitutto lo stabile che è roba sua E soprattutto riuscire a evitare che qua diventa veramente via Falanto una via di malaffare E a questo punto, Mimmo Fornare e capadaccia Accostando questa porta Va dicendo una saga naga guagnù E attenzione quando è passata da qua E attenzione quando è passata da qua Vorizovare Grazie.